Ciao bambini! Come state? Siamo stati molto contenti e Leonardo di rivedervi alla messa, per chi è venuto insomma di domenica scorsa a San Nazaro e speriamo di rivedervi in tanti insomma il prossimo incontro, il 7 dicembre lunedì. Quindi vogliamo iniziare questo momento con la preghiera che avevamo imparato la settimana scorsa dell'angelo di Dio, dell'angelo custode. Adesso vediamo se me la siete ricordata o se l'avete imparata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste, Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Allora, vi ricordate che l'altra volta abbiamo parlato dell'angelo custode. Stavolta invece parleremo di altre due figure molto molto importanti nella storia di Gesù e che sono presenti anche nel presepe. Giuseppe, il papà di Gesù, e Maria, la madre di Gesù. Io vi presenterò un po' chi è Maria. E Maria, come abbiamo, come ha già detto Sebastiano, è la mamma di Gesù. Ha una storia molto particolare questa donna. Lei era ancora una ragazza, 17-18 anni, e un giorno era in casa, che metteva a posto, non lo so, faceva le pulizie, e gli appare l'angelo Gabriele, l'angelo, quella figura che avevamo conosciuto settimana scorsa. E gli dice, ciao Maria, ti porto un grande annuncio. Tu diventerai la mamma di Gesù, la mamma di Dio che si fa uomo. E Maria cosa fa? Maria non scappa da questa proposta, da questo annuncio. Si fida, dice, sì, eccomi, sono la serva del Signore. E questo ci fa capire anche la fede di Maria, che si fidava di Dio, e ci insegna anche a fidarci di Dio. Bene, Maria è questa donna promessa sposa a Giuseppe, che diventa la madre di Gesù. Maria è, sì, la mamma di Gesù, ma, e questo lo scoprirete durante il cammino di Catechismo, fra un paio d'anni, Maria diventa non solo la madre di Gesù, ma anche la nostra mamma, la mamma del cielo, la mamma che è la mamma di tutti noi. E perché? Perché Dio ama tutti. Dio chiama tutti. E Maria è quella che, insieme a Dio, ci ama e ci protegge. Giuseppe, Giuseppe era il padre di Gesù e era un falegname, quindi lavorava con il legno, a Nazareth, che sarà poi appunto il villaggio, il piccolo paese dove Gesù, quella sua famiglia, abiterà. Una cosa importante è che quando Maria ha ricevuto l'annuncio dall'angelo che le diceva che avrebbe avuto un figlio e si sarebbe chiamato appunto Gesù, Giuseppe è spaventato, non sa che cosa fare. E così, dopo questo momento di preoccupazione, anche a lui appare l'angelo Gabriele che gli dice se non ti devi preoccupare, accompagna Maria e accudisci questo figlio che arriverà, Gesù. Giuseppe, infatti, come poi potete vedere qui dal presepe, è presente alla nascita di Gesù e sarà anche presente durante l'infanzia di Gesù e lo farà crescere e gli insegnerà il mestiere del falegname. Bene, allora abbiamo più o meno accennato chi era Maria e chi era Giuseppe. E adesso, magari dalle prossime volte, quando ci vedremo, potremo appunto anche parlarne meglio, insomma vi spiegheremo tante altre cose. Esatto, e dato che abbiamo parlato di Maria che è la nostra mamma, adesso vi insegniamo la preghiera e diciamo che i cristiani usano per parlare con Maria, per pregare Maria, no? Che è appunto l'Ave Maria. E adesso ve la recitiamo e dopo piano piano impareremo i vari incontri. Fino ad arrivare a imparare la preghiera più importante che è quella del Padre nostro, ma piano piano faremo tutto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come vedete, l'inizio di questa preghiera è un po' come quello che gli aveva detto l'angelo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto, che è Gesù. Bene, bambini. Per oggi abbiamo finito. La prossima volta... Ci vediamo! E finiremo di vedere il presepe e faremo anche un incontro speciale con una persona molto, molto speciale che c'è nel presepe. Ma vedrete... Dopopasso, dopopasso, si scoprirà. Bene dai, ci vediamo allora lunedì prossimo e... Fate i bravi! Ciao!